Salve a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con Pillole News Eventi di Riviera Oggi. Ricordiamo gli eventi più importanti da domani, sabato 22 luglio, fino al 29. Ricordiamo subito, iniziamo con il Macerato Opera Festival che è partito e che prevede alcuni appuntamenti durante la prossima settimana. In particolare domani, il 22 luglio e il 30 luglio, ricordiamo la rappresentazione della traviata di Giuseppe Verdi, mentre il 23 e il 28 luglio la Carmen di Bizze. Poi da oggi, il 21 luglio fino a domenica, il 23 luglio, a Grotta Mare, il Borgo di Vino in Tour, un tour di degustazioni dedicato alle eccellenze del buon bere, promosso dall'Associazione Borghi Più Belli d'Italia. Il 27 luglio, passiamo al 27 luglio, invece, un appuntamento a Offida in Piazza del Popolo, alle 21.30, il concerto Panariello vs Masini, lo strano incontro. Uno spettacolo, concerto. Il 27 luglio, sempre, invece, a San Benedetto, in Piazza Vicepiacentina, alle 21.30, per il Festival Racconti in Musica, il Canto Immortale, Storie dei Roi Immortali, un omaggio a Franco Battiato, a cura della gioventù musicale d'Italia, in collaborazione con l'Istituto Vivaldi e con il Conservatorio Braga di Teramo. Dal 27, sempre, al 30 luglio, invece, un appuntamento a Civita Nova Marche, il Rock Sofia, un festival di filosofia e musica, una serie di incontri, dibattiti, mostre, concerti, nell'arco di tre giorni, presso la Palazzina Cluana, sul tema Apollineo e Dionisiaco. Il 28 luglio, invece, un ultimo appuntamento della Rassegna Kronos, del Teatro del Parco Festival, presso il Parco archeologico Civita di Cupera Marittima. L'ultimo appuntamento vedrà in scena lo spettacolo, alle 21.30, Tempi senza tempo. Uno spettacolo dal vivo, appunto, per un concorso teatrale per gli Under 30. Il 28 luglio, invece, la Notte Bianca ad Ascoli, in Piazza Immacolata, vede in programma il concerto del famoso cantautore Amedeo Minghi. Invece, chiudiamo il 28 e il 29 luglio a Grotta Mare, un appuntamento ormai consueto, alle 21, presso la terrazza sul mare del Lungomare dei Gasperi, la 28esima edizione del Festival dell'Umorismo Cabaret Amore Mio. Per ora è tutto, alla prossima!